Sono qui per presentarvi il mio ultimo romanzo, Oltre il confine, io sono Gianfranco Jovino, salve a tutti. Ieri c'è stato un bellissimo evento qui a San Gimignano, una manina per la beneficenza, una serata promossa dal comune di San Gimignano che ha patrocinato l'evento e che ci ha permesso di raccogliere dei fondi a favore della Fondazione Ollus Luca Barbareschi, da sempre impegnata contro la pedofilia e la pedopornografia, che è legata strettamente a questo romanzo perché i proventi ammispettanti sul diritto d'autore li ho ceduti completamente alla Fondazione Barbareschi. Il romanzo racconta di Paola, una donna che è affetta dal male della depressione di istimia, che è una delle depressioni più cattive, ferate, perché ti spegne gli entusiasmi e ti toglie la voglia di vivere proprio. Questa malattia è conseguenza degli abusi sessuali che ha subito in età adolescente da parte del padre e che nel percorso della sua vita fino a quando viene affrontato a livello narrativo all'età di 52 anni di questa donna, per tutta la sua vita ci sarà sempre questa domanda angosciosa dentro di sé da voler chiedere al padre il motivo per il quale le ha riversato addosso un amore così impudico, così perverso, pedofilo per l'appunto, che le ha rovinato la vita e l'esistenza. E lei pur di fuggire da questa macchia che ha sul cuore, si è spinta a vivere la vita oltre il confine della ragione, oltre la regolarità delle cose della vita, andando a braccetto con la droga, con l'alcolismo, con degli aborti, fino ad arrivare al punto che grazie ad un amico che incontrerà per caso, un amico di infanzia, psicologo e psicoterapeuta, si prenderà in cura Paola per cercare di salvarla da quel finale inevitabile che è per l'appunto la morte, perché per lei si è arrivati al punto che il minore dei mali per questa sua vita insulsa sia proprio quello di morire, di cedere, di abbandonarsi, perché nella vita non trova più nulla di entusiasmante, nulla in cui credere, per cui vale la pena ancora sforzarsi, di illudersi che in un uomo ci possa essere amore, per lei che ha collezionato soltanto delusioni e forti, fortissime amarezze, che sono singoli pesi sul cuore, che sono arrivati al punto tale che è un macigno del quale non riesce più a liberarsi. Questo romanzo è stato tratto come ispirazione da un dato che è vergognosamente pauroso, il dato è che in 20 anni 6 milioni di donne sono state vittime di una violenza tale che le ha portate sul ciglio della morte, oppure posso andare in una maniera più dettagliata negli ultimi tempi e posso dire che da inizio anno ben 43 persone, 43 donne sono state ammazzate da una violenza, da un amore sbagliato, da troppo amore che si è poi riservato a loro come un fantasma da cui non sono riuscite neppure a fuggire e hanno avuto in cambio come dono di questo amore eccessivo la morte. Nel momento in cui su internet si parla così tanto di depressione come un male sociale da cui non riusciamo più a venirne fuori, confondendolo con la tristezza o la malinconia, una giornata che si affaccia con un cielo nuvoloso, ci fa credere che noi siamo tristi perché siamo depressi, invece la depressione è tutt'altro, la depressione è un male che ti vive dentro e che non ti permette neppure di subirlo perché è così radicato dentro te che non te ne rendi conto, hai solo la certezza che la vita è tutta una discesa ingloriosa verso un finale irreversibile che non ti permette nessuna possibilità di vincita e di rivalsa su te stesso e sulla vita che ti circonda e inevitabilmente questa depressione poi si spinge ad insediarsi nei pensieri e ad ammalarti l'umore. Questa malattia dell'umore oggi verso le donne è ancora più amplificato, è ancora più amplificato perché la donna secondo me ha una coscienza maggiore dell'uomo, ha un maggiore rispetto di se stesso e degli obblighi che le sono riservate dalla vita, essere madre, moglie, figlia ed amica. E quando poi in momenti di lucidità si rende conto che sta fallendo irrimediabilmente in uno di questi suoi impegni costanti, naturali che le riguardano, inevitabilmente a volte si spegne l'entusiasmo perché si convince che forse non riesce a rispettare le attese di altri che hanno nei suoi riguardi. Se non si va in cura da un medico, se non si va in cura da chi riesce a sentirti dentro, anche nel silenzio o ad ascoltare le tue voci lamentose, dalla depressione non si viene fuori. Non si viene fuori e diventa più facile poi arrendersi alla morte piuttosto che combatterla la vita. Qualche amica io l'ho persa proprio perché si è arresa, perché nessuno è stato pronto ad ascoltare quei silenzi, a starli accanto. E se io in qualche maniera anche marginale, piccolissima, come una goccia in un oceano, posso contribuire quantomeno a far riflettere che certi silenzi vanno ascoltati più profondamente, io credo di aver comunque dato un senso ad anni di lavoro, di studio, di ricerca. È un romanzo che comunque alla fine resta una storia fantasiosa, ma dentro c'è dei passaggi di vita reale che riguardano Paola a livello narrativo, ma tante donne che ho letto anche su internet, storie di vita vissuta, di donne che non vorrebbero arrendersi a questa paura di morire e vorrebbero solo che qualcuno capisse di più quanto fa male sentirsi inutili e non sapere come venirne fuori da questa galera buia dentro la quale sono state segregate. Lei e tutti i loro entusiasmi.